Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Benvenuti al nostro nuovo appuntamento con l'informazione locale, tutto taceo quasi sul fronte del faccia a faccia, ormai che dura da settimane, tra Comune e Ministero a proposito della Bologna 30, un confronto scontro che presto potrebbe finire a carte bollate. Parrebbe ad un punto morto la cherelia tra il Ministero delle Infrastrutture e il Comune di Bologna sulle città 30, ciascuno. Nel braccio di ferro iniziato, subito dopo l'applicazione dell'ordinanza bolognese, non molla di un centimetro. Il vulnus tra la direttiva del Mite di Salvini e il provvedimento di Lepore sarebbe la non applicabilità indiscriminata dei 30 orari a diverse arterie che, secondo Roma, non avrebbero le caratteristiche adeguate all'aderoga al ribasso del limite di velocità. L'avvocato Angelo Scavone, costituzionalista, già assessore al traffico nella Giunta in Bini, prova a spiegarci cosa potrebbe allora accadere. Nel Ministero richiama il Comune a dire che devi intervenire perché su tutto il territorio comunale non è possibile mettere un limite diverso da quello previsto dal codice della strada, cioè 50 km ora. E se il Comune non dovesse però rispettare quanto dice il Ministero, che cosa può accadere? Da un punto di vista legale? Da un punto di vista legale il Ministero può intervenire, addirittura il codice della strada dice materialmente modificando i divieti a spese del Comune e può quindi esercitare un potere sostitutivo, si chiama tecnicamente, rispetto al Comune in adempiete. Quindi gli uffici del Ministero sono andati non con la mano pesante, hanno praticamente dato un avviso di intervenire al Comune adeguandosi al codice della strada. Non è che possiamo invocare norme della Costituzione, c'è una legge che detta delle discipline precise e dà al Ministro, l'articolo del codice della strada, poteri di direttiva. Ce ne sono state tante altre precedentemente date dal Ministero al Comune, anche prima che fosse il Ministro Salvini nessuno ha mai protestato. Naturalmente torneremo a seguire questa annosa querelle, veniamo alla cronaca. Vige la legge della giungla o quasi nell'area del dopolavoro ferroviario, anche nei giorni scorsi la polizia è intervenuta diverse volte, gli agenti della mobile sono stati anche aggrediti dagli spacciatori, ma nell'area ci sono anche tante attività sportive e culturali. Dunque c'è chi esprime preoccupazione per questa situazione. Abbiamo avuto ultimamente molte email, segnalazioni di genitori che portano i ragazzi e hanno manifestato paura, quindi per questo noi siamo intervenuti in maniera molto forte perché potessero darci una mano alle forze dell'ordine. Più ci sono spacciatori e più aumentano gli utilizzatori di droghe, insomma, ovviamente, e quindi anziché diminuire ci stanno riempendo il parco. È la Presidente dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna, Marzia Pasotti, a descrivere quanto accade nell'area alle spalle della stazione. Diversi negli ultimi giorni sono stati gli interventi della polizia per contrastare lo spaccio. Alcuni pusher hanno anche aggredito gli agenti della squadra mobile. Lo spaccio aumenta e hanno una zona riservata che è vicino all'arena Puccini e la polizia è intervenuta ultimamente, pur essendo un'area privata e non sono loro le persone proposte di intervenire, ma ultimamente ci stanno dando una grossa mano insieme alla polferra. Oltre all'Associazione Dopolavoro, l'area ospita altre 11 realtà culturali e sportive. L'incertezza sulle sorti dello spazio determinano, secondo la Presidente, la mancata possibilità di incidere sulla sicurezza. Venuto qui il sindaco in luglio 2022 dicendo che probabilmente quest'area sarebbe stata ceduta al comune e che ci aveva assicurato la continuità, dopodiché non abbiamo più visto, abbiamo il vuoto, il nulla. Una situazione quindi che non vi consentirebbe di prendere provvedimenti? Precedentemente avevamo anche operatori che pagavamo privati per la sicurezza dell'area, oggi come oggi è davvero molto complicato creare una prospettiva e un progetto che ci possa far andare avanti in modo più tranquillo. Per tutti i cittadini, i bambini che vengono all'interno del parco per fare attività sportive, culturale, fumetti, facciamo pittura, facciamo box, facciamo ogni qualsiasi attività che coinvolge dal bambino di 4 anni a quello di 80. Ancora cronaca, dalle segnalazioni di alcuni condomini di un edificio di zona Murri sono nate l'indagine della finanza di Bologna che ha smascherato una truffa legata al cosiddetto bonus facciate. L'indagine della Guardia di Finanza di Bologna che ha smascherato l'ennesima truffa legata al bonus facciate è nata dalle segnalazioni di alcuni condomini di un edificio in zona Murri, non solo arrabbiati perché i lavori non cominciavano ma anche insospettiti da quella che sembrava una complicità fra il loro amministratore di condominio e la società che avrebbe dovuto realizzare l'intervento. Sospetti fondati visto che alla fine le fiamme già le hanno denunciato sia l'amministratore che il legale rappresentante della ditta per truffa nei confronti dei condomini e non è escluso che entrambi devono rispondere anche di tentata truffa ai danni dello Stato. Il professionista infedele è un cinquantenne residente nel Modenese che amministra edifici anche a Bologna mentre l'azienda edile ha sede nel Ferrarese. Oltre a denunciare i due soggetti finanzierano sequestrato 250 mila euro di crediti d'imposta fittizi nei confronti della società operante nel settore delle ristrutturazioni. Le perplessità dei condomini sono nate perché dopo la stipula del contratto di appalto che su un costo totale dei lavori di circa 350 mila euro prevedeva l'applicazione del cosiddetto bonus facciate con spesa a carico dello Stato per il 90% e per rimanente 10% a carico dei proprietari degli appartamenti questi ultimi nei mesi successivi hanno visto che i lavori non cominciavano. Dopo avere sollecitato in vano l'amministratore hanno saputo che i lavori sarebbero stati affidati in subappalto a una nuova società. Peccato che, secondo quanto hanno poi scoperto gli investigatori, quella società era stata costituita appena una settimana prima dell'assemblea condominiale che aveva approvato il preventivo dell'intervento. La finanza specifica che nello sviluppo della truffa è stato cruciale il ruolo dell'amministratore di condominio il quale avrebbe indotto in errore i propri condomini proponendo in modo univoco quell'azienda edile e favorendo l'approvazione del preventivo prodotto dalla società pur consapevole della sua recente costituzione e della carenza di comprovata esperienza nel settore. La tentata truffa ai danni dello Stato, spiegano ancora le fiamme gialle, è stata scongiurata grazie al sequestro dei crediti d'imposta deciso dall'autorità giudiziaria per evitarne l'indebito utilizzo. La truffa ai danni dei condomini, che avevano già versato parte delle somme, era invece stata ormai compiuta senza contare il danno che hanno avuto per la mancata esecuzione dei lavori. Ancora cronaca, l'hanno chiamata la banda dell'intimo, non tanto perché rubasse diciamo l'ingerie o completini sexy, ma quanto perché dopo un colpo coprivano la targa della loro autovettura con un bel paio di mutande da uomo. Rubavano a bordo di auto parcheggiate in varie località della bassa bolognese e per coprirsi la fuga dopo i furti avevano l'abitudine di nascondere la targa della loro macchina con un paio di mutande per evitare che questa venisse ripresa dai sistemi di videosorveglianza. Per un po' il sistema ha funzionato, ma alla fine gli agenti della polizia locale Reno Galliera hanno scoperto il trucco e smascherato i ladri, un 54enne e un 61enne, entrambi residenti a Modena e già con precedenti. Le indagini sono partite dalle segnalazioni dei cittadini, residenti soprattutto fra Galliera e San Giorgio di Piano, che si erano visti svaliggiare le loro auto in sosta. In qualche occasione gli autori dei furti erano stati visti allontanarsi a bordo di auto Alfa Romeo che avevano la targa posteriore coperta da quelli che sembravano stracci. Gli accertamenti avviati dalla polizia locale Reno Galliera hanno permesso in breve tempo di risalire alla banda che si spostava su un Alfa Romeo Giulietta. I due occupanti sono riusciti a sfuggire a un primo controllo allontanandosi a forte velocità, ma dopo qualche giorno sono stati nuovamente intercettati e bloccati. Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e resistenza pubblico ufficiale. La perquisizione del veicolo ha permesso di trovare un paio di boxer l'indumento che veniva usato per nascondere la targa posteriore. Successive indagini, in collaborazione con la polizia locale di Modena, hanno rivelato che le auto utilizzate dai ladri erano intestate alla stessa persona, una 61enne residente in un campo nomadi del Modenese, intestataria fittizia di diversi veicoli. Anche per lei è scattata una denuncia per favoreggiamento personale. Parliamo di sanità, andiamo a Rizzoli, dove oggi sono stati presentati due nuovi importanti macchinari per la diagnosi. Con oltre un anno e mezzo di vita e diversi progetti in cantiere, la Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli presenta i primi risultati tangibili. È stata consegnata in questi giorni una sofisticata TAC intraoperatoria per l'ortopedia vertebrale oncologica da oltre un milione di euro acquisita dalla Fondazione grazie a una donazione da parte di un solo generoso benefattore che preferisce rimanere anonimo. L'altra strumentazione è un dispositivo di diagnostica per immagini a fluorescenza da 120.000 euro, da crowdfunding 30.000 euro, necessario per la diagnosi precoce e la cura dell'infedema. Il dispositivo permette la visualizzazione dei dotti linfatici e della loro funzionalità e consente al chirurgo di identificarli sul paziente per poi intervenire con tecnica microchirurgica. Abbiamo due strumentazioni molto importanti per noi. Una è un'attacca intraoperatoria con relativo letto chirurgico. Ci aiuterà a migliorare la sicurezza e anche i tempi di esecuzione degli interventi chirurgici, di chirurgia vertebrale e oncologica. La seconda ci consentirà, cioè questo apparecchio diagnostico in fluorescenza per il sistema linfatico, ci aiuterà a completare quegli investimenti che anche l'istituto sta facendo con un robot microchirurgico, con un microscopio ad altissima definizione, anche questa apparecchiatura per completare il percorso del trattamento dell'infedema, che è una patologia ingravescente, con complicanze che nel tempo vengono date anche funzionali e metaboliche, stasi del liquido linfatico nei tessuti, a seguito o di un intervento chirurgico demolitivo, oncologico, trauma o altro, oppure anche primario, diciamo, come patologia rara, molto più limitato in termini di casistiche. Noi ovviamente facendo molti interventi anche chirurgici demolitivi abbiamo a volte di queste complicanze e per completare il percorso, per lasciare al paziente delle altre opportunità di trattamento avviamo questo centro chirurgico che è il primo centro chirurgico in Regione Emilia-Romagna perché il percorso dell'infedema è prevalentemente riabilitativo. Noi abbiamo le mani sapienti dei chirurghi e le attrezzature per poter fare il primo centro chirurgico in Regione Emilia-Romagna. Stiamo qui oggi a rafforzare ancora una volta la nostra proposta sanitaria pubblica e universalistica perché ricordiamo che Rizzoli oggi non è soltanto il primo ospedale ortopedico a livello nazionale, ma tra i primi al mondo anche per attrattività delle persone che arrivano a curarsi qui fuori dalla nostra regione. Si chiude il nostro Tg del pomeriggio, grazie di averci seguito, appuntamento ai prossimi notiziari. www.e-tv.it E ti connetti con la realtà che ti circonda.